salve ragazzi eccoci qua un video tanto per caricare qualcosina allora che dirvi io non riesco più a far video perchè ho cambiato il sistema operativo del pc e adesso non ho linux provvisoriamente finchè non riesco a installarmi windows di nuovo ho il flash negli occhi, credo che diventerò cieco ora quindi andrò a tastoni tanto per e volevo farvi vedere intanto così tanto un video così a cazzo a random un po' la mia camera quindi andiamo se sentite un po' di sono zio sono dio ok dopo questa come se adesso sentirete questa qua è la porta della mia camera questa è la mia camera letto di mio fratello qua ci sono cartelle secondo pc questo qua viene usato per altre cose vari libri di scuola nuovi a chilometri zero il mio casco dello scooter che adesso non si può più usare perchè ho fatto l'incendente in scooter e quindi non ho più lo scooter il mio letto molto ordinato con il tablet coso qua telecomando e questa qua è la mia postazione con modem stampante occhiali mouse molto alla moda cuffia della bit non so se riesco a metterla a fuoco non riesco si dai qualcosina e ragazzi abbatte pazienza sono con il telefono playstation 3 subwoofer adesso vi farò sentire come si sente col mio cosino qua allora tacco perso allora mettiamo la canzone a caso mettiamo la canzone a caso allora no ecco rianna spilex questo qua è le mie casse del pc qua c'è il mio dischio per la prima cassa le cuffie con cui ci trovo i miei dadoni verdi questa qua è la vista che si vede dalla camera mia il scenario di italiano mai usato nuovo allora adesso andremo un pochettino avanti come vedete è Linux il mio sistema operativo adesso adesso sentirete il che caso si sente un pochettino dai si può dire che quando faccio già faccio 2-3 partite si vede bene e dopo questo video e tutto tanto per farmi vedere tanto per vedere per far vedere che sono ancora vivo e dopo questo ragazzi non so che dirvi e boh non so ci vediamo al prossimo video vlog video game play speriamo dai al più presto perché allora in teoria sabato dovrei trovarmi con un mio amico per mettere a posto il computer quindi formattarlo mettere in windows 7 no anzi no 7 così è tutto a posto riesco a fare una nuova intro montare di nuovo video e basta ci sentiamo a più presto credo con un altro video vlog perché non 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 ho tante speranze però va bene dai bella ciao